Nuovo corpo Landrangheta, sei anni dalla conclusione dell'indagine Emilia, un'operazione congiunta, polizia e guardia di finanza, ha portato a sequestro di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore crotonese di 43 anni, da lungo tempo residente nel Reggiano. Un sequestro risposto dal Tribunale di Bologna fu richiesto del costore di Reggio Emilia, finalizzata la confisca. L'uomo era stato coinvolto nella precedente indagine sull'infiltrazione della criminalità organizzata in Regione. Ha avuto una condanna nel processo Emilia in relazione alla quale si è appunto dimostrata una consistenza patrimoniale che era sproporzionata a quella che effettivamente era l'attività che questa persona svolgeva. La condanna per intestazione fittizia di beni, da lì è partita l'indagine patrimoniale di Fiamme Gialle Polizia. Siamo andati indietro fino a 22 anni, ovviamente ricostruendo ogni acquisizione di bene e ogni afflusso di denaro sui conti correnti per dimostrarne l'assenza di una fonte illecita, con il confronto anche con le dichiarazioni dei redditi e con le dichiarazioni delle imprese. Sequestrati nuovi immobili nel Reggiano, terreni, impresvedili, conti correnti e autovetture, beni intestati a 43enne ma che sarebbero riconducibili all'andrangheta, che avrebbe così continuato a fare flori di affari anche dopo la conclusione di Emilia. Questo sequestro lo dimostra, ma dimostra anche che c'è una capacità di risposta da parte delle forze di polizia che permette di raggiungere questi risultati.